Salve a tutti ragazzi, vabbè ma capaccia a farsi per il sì, ma questa introduzione a che sé? Ma quale salve a tutti? Ma noi ci dobbiamo vergognare proprio di esistere Ma quale salve a tutti? Io voglio fare un disclaimer, ragazzi io non sono riuscito a vederla come si deve, forse è una salvezza che non sia riuscito a vederla come si deve Ha avuto problemi di linea per tutto il tempo, ho promesso che l'avrei recuperata e purtroppo la recupererò perché questo è il fardello del tifoso, tu lo capisci meglio di me, biazza Ti faccio il regalo, non guardartela Vabbè però, aspetta, aspetta, allora questo sarà un pessimo risultato, poi ti lascio la parola perché tu l'hai vista bene, sai cosa dire Io non ho la più paella idea, solo che si può dire che effettivamente su una cosa devi ragione E mo, 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 per se tre a zero scuole il Torino, non si può scendere più in massa Siamo arrivati al fondo del... secondo me a sto punto faccio il tuo ruolo, secondo me non è il tuo Vai prego, fammi sapere com'è andata sta partita che hai naggi capito in calza Ma che ti devo dire, cioè qualcosa di... non si può neanche più parlare di tattica, dobbiamo fare i farmacisti e parlare dei medicinali che ci dobbiamo prendere prima, durante e dopo la partita per non suscitare... No scusate Ma ci stava Conte in tribuna, l'hai visto? Almeno qui ti è capitato Conte in tribuna? No, no, a me ne sono simbato Era Conte in tribuna, l'hanno inquadrato, ah vedi, voci di mercato magari sta vedendo la partita Ma speriamo che non era venuta a guadere il Napoli perché a un certo punto, nel secondo tempo, non l'hanno inquadrato più, quindi mi sono immaginato Conte che si è messo lì a strusciare sotto i seggialini e è uscito piano piano dallo stadio senza farsi vedere Ha visto fatto pur buono, cioè così, che io tifoso me la sorbisco la prestazione Però giusto per capire, perché voglio essere sicuro, ma il risultato riflette la prestazione? Cioè il Napoli aveva meritato di perdere 3 a 0? Oppure c'è la solita cosa che ci mangiamo tante cose? Allora, si può riassumere in poche semplici azioni Primo tempo dove il Torino ci pressava e noi avevamo due scelte, avevamo deciso di fare O il lancio sul Raspa che purtroppo con Buongiorno dietro lo salutava sempre, Buongiorno, Buongiorno e non riusciva mai a spuntarlo Oppure gli esterni che venivano dentro e si saltava completamente la costruzione dal basso Quindi i centrocampisti non venivano proprio interpellati per andare direttamente con Mario Lugui a Quara Oppure con Mario Lugui a quell'altra parte E sempre il passaggio completamente sbagliato, tutto il primo tempo così Poi è capitato questa occasione in contropiede Dove noi abbiamo fatto la prima palla buona che è arrivata a Quara Ha fatto quel passaggino per Cajuste, Cajuste l'ha allargato È arrivato il pallone in mezzo e Raspa da tu per tu con il portiere ha colpito Savic E là era la prima occasione del Napoli che poteva trasformarsi in gollo Potevi stare 1-0, un calcio di rigore in movimento e invece non hai segnalo Quindi pure Raspa si è aggiunto a questo esclusivo club di giocatori che sbagli nei mani Ma attenzione, non è finita qua perché poi c'è stata un'altra occasione Sempre con Raspa protagonista che stavolta fa una grande giocata di tacco per Zienischi Che viene praticamente servita tu per tu con il portiere per l'ennesima volta sul mancino Che ormai la barzelletta la ripetiamo all'infinito Eh ma quello Zienischi destro e sinistro è tale qua Non gliel'hanno fatta questa imbasciata a Zienischi Lui sul mancino che c'aveva la porta spalancata ha pensato di fare una finta e portarselo sul destro Che è inciampato A Tupesulis A Nansavabe Poi Per finire il primo tempo Calcio piazzato In mezzo rimpalla arriva il pallone Se non mi ricordo Forse Sanabria che segna 1-0 per il Torino Soddisfatto Arrivi Cambio Si passa a 3 Dice Mazzari Ok basta 3-4-3 Neanche il tempo di provarlo Perché Mazzocchi ha fatto Prima una bella discesa su Palla al piede Con un bel cross pericoloso Che c'è Se c'era Victor in aria Magari avremmo anche segnato Se ci fosse stato Victor E l'azione dopo Quindi 3 minuti dopo Una scivolata killer Colpito e alzato Che ha preso Pratente sulla Ginocchia Non mi ricordo Forse Ricci Che è proprio espulsione diretta Gli ha dato addirittura il giallo L'arbitro Ha dovuto rivederla al bar Ed espulsione diretta Là è cambiata la partita Non si è capito più niente Noi proprio completamente Allo sbando Perché poi è stato bellissimo A fine del primo tempo È stata eccezionata La faccia di Juan Jesus Che mentre gli spiegavano Perché stava entrando Mazzocchi Juan Jesus va vicino Al secondo di Mazzari Non mi ricordo Manco come si chiama Frustalupi Frustalupi Come si chiama Frustalupi Che gli spiega Come si doveva posizionare Ed è bellissima La faccia di Juan Jesus Quel punto interradio Bellissimo Cioè proprio Come dire Aspetta Cosa Cosa Come ci mettiamo Mazzocchi Tu dove vuoi giocare Pari via a calcetto Quando dobbiamo fare le squadre Dove vuoi giocare Dove ti trovi Ma quindi Ma quindi Veramente Mazzari Durante la sua fase Di disperazione È tornato a tre Sì 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 Però è durato tre secondi Il tempo di Mazzocchi Si è fatto spoiler E poi siamo tornati Con questo Mezzo Quattro Tre Due C'è una roba Quattro Due Non si capiva Niente Cioè perché poi Si abbassava Il terzino Che poi è diventato Zerbino Perché poi ha messo Zerbino al post A un certo punto Gli schemi sono saltati Non ho potuto Niente più guardare La partita A livello tattico Sono diventato Un tutt'uno Con il divano E stavo iniziando A pensare Allora Ma dopo Che metto a fare Forse hanno fatto Una nuova Abbiamo messo Una nuova serie Di tv Su Netflix Ma scusami Ma chi erano I tre difensori Della difesa a tre Che è durata poco Di Lorenzo Mangesus E Rachmani Ah di Lorenzo A fare il braccietto E Mazzocchi A fare il tornante A destra Sì Ma è durato Proprio mezza seconda Perché il tempo Si è fatto A spesso Mamma mia Certo Mazzocchi Si è presente Ma non ho niente Conti ragazzo Perché vabbè In realtà può capitare Però mamma mia Poi il povero Gollini Che ha subito Pure il tiro Di Plasic Imparabile Un tiro Su calcio D'angolo Il buongiorno Che ha fatto Uno stacco Per il 3 a 0 Nel 7 Quindi imparabile Tutto e due Perché i gollini Perché i gollini Probabilmente Se ci fosse stato Meretta a porta Erano parabili Magicamente Quei tiri Potevano essere Non fa mai un miracolo Sto Meretta Vabbè E questo Cioè Veramente Boh Non so più Cosa dire Secondo me Conti avrà pensato Ma chi mo fa fa Ma come non porta A me Cioè proprio Il napoletano Stritt Si è messo a parlare Mi dice No ma Ma il Milan Fammi avere Partito No Ragazzi È molto più grave Di quello che Io potessi Pronosticare Nonostante io Sia piuttosto Negativo Su questa squadra Da quando abbiamo Perso quella partita Con Real Madrid Male 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 Poi vabbè Il casino García All'arrivo di Mazzari Mi avevano proprio Sfiancato Ma a questi livelli No Cioè questa è una squadra Completamente persa Ma come si fa a recuperare Sta situazione Ma che si deve recuperare Ma che si deve recuperare E ormai Ma ti rendi Di quanto Che disastro Se non andiamo in Champions Ma tu devi vedere Le facce Tatsu Devi vedere le facce Di quelli In mezzo al campo E le vedrò Perché non avevano neanche La voglia di respirare Basta Cioè proprio Boccheggiavano E non è neanche Io se ho già letto Problema Vedi Non corrono più Ma ragazzi Non corrivano Dal primo minuto Del primo tempo E a meno che Non sono diventati Dei disabili Non lo voglio dire Dei Dei anziani Facciamo Cambiamo la parola Degli anziani Che devono finire Solo in una casa di riposo Che non riescono Manca a fare più un metro Non è più un problema fisico Questo è un problema Che sono proprio spenti Cioè qualcuno Deve riaccendere Il pulsante on Siamo su off Non è più un problema fisico Perché non puoi Non correre Dal primo minuto Della partita E pure io Che non sono allenato Come un professionista Avrei corso di più Probabilmente Non lo so Sono veramente amareggiato Ti faccio un'ultima domanda Giusto perché voglio capire In mezzo a questa Lo ho appoggiato Solo al comodino Era questa la domanda A parte A parte Come stai A livello di condizioni Psicofisiche Istong è una chiave Che non l'ha giù guardata Buona Figuratemo Che me la vado a guardare Perché purtroppo Me la recupererò Però il punto è In mezzo a tutto questo Marasma di munnezza Qualcosa di buono Lo possiamo trovare Almeno tipo A livello di singoli Cioè c'è stato Qualche giocatore Che ha giocato bene Allora Lindstrom è entrato Ha fatto qualcosina Ma purtroppo Ha sul 3-0 Quindi inutile Zerbin è stato Il più positivo Ah è Basta È fornuto Ah è fornuto È fornuto Perché poi Posso citare L'intervento Di Lobotka In scivolata Che ha salvato Un gol fatto Sullo 0-0 Però Per come è finita La gara Purtroppo Non ce lo possiamo Ricordare Benissimo Questo intervento Di Lobotka Queste E direi Che questo È il finale Perfetto Io che chiedo Di fare un commento In positiva E non esce niente Praticamente Ci sta Ci sta Ma va bene La cosa positiva È che ha non già segnato Zapata Il gol dell'ex Va bene No la cosa positiva È che a un certo punto Ho visto che sono Abbracciati lo stesso Quindi C'è ancora Un pochino Di affetto Tra i giocatori Ma adesso Mi ha affattato Tutto quando Chi si capisce Mazzari Ha portato Questo L'ha E se riesco Sette punti In otto Partite Veramente È difficile Immaginare Che Garzia Avrebbe fatto Così tanto Male Perché per quanto Si stesse Andando relativamente Male Non eravamo mai Diventati Così tanto Piedosi Poi vabbè Ovvio Con i secconi Manzi Da nessuna parte Magari avremmo Fatto pure peggio Con Garzia Però Questo cambio Ha fatto Veramente male Peraltro Riconcludo Semplicemente Dicendo Beh Arriverà Poi anche Cosa ne Penso io Della gara Perché ve lo Devo Però Arriverà Magari domani Salute No Non è Il polmone Reazione allergica Sì È che sono passato In cucina Dove c'erano i miei E i miei stavano guardando Canale 21 Ho sentito Chiari E lo dire Che vuole subito La testa di Mazzarri È abbastanza particolare No È stato Difeso Fino a Move Cavers 3 a 0 Vabbè Ci sta Ci sta Però Arrivano sempre Troppo in ritardo Non si rendono Conto Però vabbè No ma adesso Cioè l'unica cosa Si può fare In termini sul mercato Ma non per prendere Delle alternative Per prendere Dei titolari Se non prendi Dei titolari Nuovi Per questo In questa Sessi di mercato Tu veramente Adesso sei nono In classifica Ma probabilmente Finirai così E il campionato Proprio in questa Posizione qua Cioè Perché stiamo Abbiamo fatto Metà dei punti Dell'anno scorso Preciso Sì Considerando Anche la competizione Che c'è davanti È difficile Immaginarsi Che riusciremo A fare così Tanto meglio Nel genone di ritorno Da poter puntare Ai posti Champions Ragazzi Veramente sarebbe Una grossa Disgrazia Ma perché poi Si rendi conto 3.000 nomi Ci stanno accostando Ma noi siamo arrivati Alla partita Con il Torino Solo con Mazzocchi Speso 3 milioni Che si è fatta Spellare Dopo 3 minuti Tra parenti Sì Bellissimo Mazzocchi È entrato Infatti Alla prima azione Ho fatto Ah vedi È entrato Con voglia O ha fatto Che la c'è Un po' Troppa voglia Pasqua Ti ha calmato Ed è Spulso Giustamente Lo devi pure Sputare in un occhio Ti devi sputare in un occhio Pure tu Che l'hai acquistato Però Quello è un altro Disco Anche perché L'unico acquisto Che finora avevi fatto Minimo Minimo Per due partite Non ce l'hai Quindi pure Belle Che sta Vabbè Che poi Ci mettiamo pure Noi che abbiamo detto Se arriva un nuovo giocatore Deve giocare Incredibilmente Infatti qua Si è fatta Spellare Non è che Andai a Questi Mi voglio Questo Mi voglio Accapare in due mure Dopo Appena Finiamo il video Lo faccio Azzapare in due mure Va bene ragazzi Fateci sapere Cosa ne pensate Scusate Un video Anche un pochino Casariccio Senza introduzione Ma qua Veramente le cose Si stanno facendo Gravi Il livello Del Napoli E questo Noi Ci adeguiamo Sì Non mi metto La giacca E la cravatta Per commentare Questi obbrobri Perché loro Non sanno Che durante L'anno di Gattuso Non c'era Pet mori Saranno i pesci Non sanno niente Vabbè Come questo Ragazzi Vi voglio bene Commentate Fateci sapere Quando vedete il video E vabbè Forza Napoli Semb 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 Grazie.